Ben trovati, oggi parliamo di una delle figure veramente più iconiche della storia del rock una figura che ha rivoluzionato completamente la tecnica del suo strumento e che ha avvicinato milioni e milioni di ragazzi alla chitarra elettrica oggi parliamo di Eddie Van Halen cominciamo a dire che possiamo dire Van Halen o potremmo dire Van Halen come dicono negli Stati Uniti in realtà nessuno dei due sarebbe corretto visto che lui era olandese l'unica cosa che sappiamo è che Edward Ludwig Van Halen spero di pronunciarlo in maniera giusta è nato ad Amsterdam nel 1956 allora a mio parere quattro sono i chitarristi che hanno veramente rivoluzionato la storia del rock e dello strumento Jimi Hendrix Richie Blackmore per chi non lo sapesse è chitarrista di Eddie Purple Ingve Malmsteen e Eddie Van Halen e allora Jimmy Page e Eric Clapton dove l'hai messo e Alan O'Halsworth e il chitarrista dei cugini di campagna non lo vogliamo considerare ragazzi è il mio canale e nel mio canale i miei preferiti sono questi a sette anni con il fratello si trasferisce negli Stati Uniti ovviamente poi verrà naturalizzato statunitense ma ovviamente la sua lingua madre è e resta l'olandese tant'è vero che ci sono tante interviste fatte da lui e dal fratello Alex in olandese soprattutto quando erano intorno in Olanda visto che comunque l'olandese era comunque la lingua che parlava in casa con i suoi genitori il suo approcciarsi alla musica non è tanto diverso da quello di tantissimi altri ragazzi che lo fanno in maniera abbastanza superficiale inizia a suonare la batteria poi si mette a suonare le tastiere, il pianoforte finché un giorno quasi per caso non si avvicina alla chitarra e gli scatta la scintilla Edward o Eddie, d'ora in poi lo chiamiamo Eddie capisce subito che con questo strumento c'è un feeling particolare e che con questo strumento potrà dire la sua in maniera importante e lasciare un segno nella storia del rock ora non possiamo sapere naturalmente se nella sua testa c'erano delle ambizioni così alte però sta di fatto che lui è perfettamente consapevole del fatto che sta portando delle innovazioni sulla chitarra che se il disco che sta per produrre avrà successo saranno delle innovazioni veramente che lasceranno il segno si forma quindi il primo nucleo della band appunto con lui alla chitarra suo fratello Alex Van Halen alla batteria tra l'altro un eccellente batterista David Lee Roth alla voce e Michael Anthony al basso e questa band che nasce praticamente nei circuiti del liceo o giù di lì ha un percorso simile a quello di tante altre band registrano dei demo, cominciano a fare dei concerti a suonare in giro nei vari club insomma per farsi conoscere e riescono ad attirare l'attenzione di niente proprio di meno di Gene Simmons il bassista e cantante dei Kiss che intravede il potenziale di questi ragazzi e si dichiara disponibile a fare in modo che lo registri in un demo il demo viene registrato ma stranamente questo demo benché sia fatto girare nel circuito come si faceva ai tempi delle case discografiche per vedere se ce ne fosse una disposta a pubblicare lo primo album non sortisce l'effetto sperato e quindi poi alla fine Gene Simmons preso anche da insomma da Nipenni con i Kiss e da tante altre cose abbandona i ragazzi al loro destino ma il destino non li lascia attendere troppo alla fin fine e nel 1978 quando Eddie Van Allen ha solamente 23 anni esce l'album d'esordio che è un album fondamentale innanzitutto perché è uno degli album d'esordio più venduti della storia del rock poi perché resterà anche nella discografia di Van Allen resterà comunque sempre uno dei più venduti di tutti i tempi e poi perché c'è una traccia una traccia strumentale che si chiama Eruption nella quale Eddie Van Allen in un minuto e 42 di brano rivoluziona completamente le regole del gioco in questo brano ci sono tutte le novità tecniche o quasi tutte le novità tecniche che Van Allen porterà sullo strumento è un brano rivoluzionario è un brano veramente iconico è un brano che ha avvicinato tantissime persone nella chitarra e vi assicuro che quando è stato ascoltato insomma io nel 1978 c'ero ma insomma ero un bambino ma quelli più grandi di me che mi dicono che l'hanno ascoltato da adulti nel 1978 mi dicono siamo rimasti a bocca aperta perché nessuno aveva mai fatto niente del genere inizia così una carriera di grande successo commerciale da una parte quindi Van Allen con questo disco e con i successivi diventano una delle band rock più apprezzate del mondo fanno tour infiniti come dire e la prima fase si concluderà nel 1984 1983 in realtà poi l'album si chiamerà in realtà 1984 con la canzone loro più famosa e ancora conosciutissima da tutti che è ovviamente Jump ma in questi cinque anni diciamo da 78 all'83 veramente Van Allen rivoluziona la chitarra ne rivoluziona la tecnica ne rivoluziona l'approccio ne rivoluziona anche proprio la concezione tanto è vero che le sue prime chitarre customizzate da lui sono costruite da lui pezzo per pezzo per cui lui sceglie i pick up che vuole lui il corpo che vuole lui la tastiera che vuole lui i selettori che vuole lui i potenziometri che vuole lui se la fa veramente su misura non so se questo è il primo caso in cui un chitarrista elettrico si fa la chitarra pezzo per pezzo ma sicuramente è stato il primo caso in cui questa attività è divenuta un qualcosa di talmente tanto particolare talmente tanto specifico che poi diverse fabbriche che costruivano chitarre si rivolgeranno a lui per avere dei progetti fatti apposta per loro e quindi ci sarà la chitarra fatta da Van Halen per la tal ditta o per quell'altra fabbrica allora Van Halen è famoso per la tecnica del tapping allora innanzitutto vi spiego in dieci parole in cosa consiste e poi vediamo anche l'evoluzione storica di questa tecnica normalmente anche chi non sa suonare la chitarra presumo che sappia che la chitarra si suona con la chitarra elettrica almeno la chitarra classica è un altro discorso la chitarra elettrica si suona con il plettro che pizzica la corda con la mano sinistra che mette giù le note per cui normalmente una chitarra elettrica si suona così col plettro che pizzica la corda il tapping praticamente leva di mezzo il plettro e si usa la mano destra per battere sul manico e ottenere determinate note la tecnica non è nuova è risaputo insomma che Vittorio Camardese un italiano la faceva già negli anni 60 però diciamo che con la chitarra elettrica in particolare è distorta e con una serie di effetti di flanger di chorus di riverbero di eco eccetera eccetera acquisisce ovviamente una potenza di fuoco che la chitarra acustica di Camardese non poteva minimamente avere il tapping non è evitato neanche Camardese e sprecedenti ci sono registrazioni già degli anni 30 in cui si usa questa tecnica però quindi a parte che Vanale non ha mai detto di averla inventata lui e questo diamo a Cesare ciò che è Cese anzi lui ha detto che l'ha sviluppata dopo aver sentito una solo di Jimmy Page ma appunto non è chi l'ha inventata o chi non l'ha inventata il punto è chi l'ha portata al livello a cui ha portata Van Allen cioè Van Allen allora in cosa consiste questa tecnica e qual è il suo grande potenziale tecnico espressivo è il fatto che la mano sinistra suona una serie di note ok la mano destra battendo sul sul manico della chitarra produce due effetti innanzitutto di avere un range di queste note molto ampio chi suona la chitarra lo sa bene non è possibile suonare la chitarra suonando la parte bassa e contemporaneamente suonare anche la parte molto acuta a meno che la parte bassa non si è fatta di corde vuote evidentemente normalmente però questa cosa non è possibile utilizzando questa tecnica di tapping Van Allen può tra le altre cose suonare per esempio la mano sinistra con la mano sinistra la zona bassa e con la mano destra la parte acuta anche molto acuta in più c'è un'altra cosa che le note che vengono suonate con la mano destra sono delle note in più che si aggiungono a quelle che fanno la mano sinistra e quindi c'è un vulcano e non per niente il pezzo di apertura del disco di esore si chiamava eruption eruzione c'è un vulcano di note una quantità di note che così tante tutti insieme probabilmente nessuno aveva mai sentito poi Van Allen svilupperà moltissime altre tecniche lavorerà tantissimo con gli accordi lavorerà moltissimo con i volumi come nel brano Cathedral e moltissime altre tecniche il legato naturalmente il legato è una tecnica che si usa nella chitarra classica già dalla seconda metà del settecento quindi certo non l'ha inventata non l'ha inventata Van Allen però l'ha portata all'interno di questa complessa e nutrita serie di novità tecniche portate sullo strumento ecco perché parlo di Paganini nel titolo di questo video perché posso dire tranquillamente senza tema di essere considerato blasfemo che Van Allen è stato per la chitarra elettrica quello che Paganini è stato per il violino cioè un'innovazione e una tale quantità di nuove tecniche di nuove tecniche apportate al suo strumento che nella chitarra elettrica c'è un pre Van Allen e un post Van Allen non solo questa cosa ha fatto sì che nel 1978 nei primissimi anni 80 ci fosse solo un chitarrista al mondo che suonava come Van Allen Van Allen stesso ovviamente ma nel corso degli anni c'è stato un innalzamento tecnico medio pazzesco e quindi tutte quelle cose che fatte da lui tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80 erano straordinarie e le suonavano solo lui e pochissimi altri chitarristi al mondo oggi sono innalzati degli standard che vengono suonati non voglio dire da qualunque ragazzino che studia la chitarra ma da qualunque ragazzino che studia la chitarra bene oltre alla produzione discografica di Van Allen c'è un brano non scritto da Van Allen per cui Van Allen è famosissimo ed ovviamente Beat It di Michael Jackson in cui lui suona non la parte della chitarra elettrica che in realtà è suonata da Steve Luketer ma la parte di assolo e qui la leggenda anzi no la leggenda Van Allen stesso racconta che un giorno Quincy Jones il leggendario produttore di Michael Jackson e di tantissimi altri grandi artisti del pop chiama Van Allen e gli dice caro Eddie vorrei che tu venissi a suonare su un nuovo disco di Michael Jackson Eddie forse anche nubilato da alcune sostanze che prendeva i tempi non crede minimamente pensa che si tratti uno scherzo e lo manda anche a quel paese in maniera un po' colorita ma Quincy richiama e fa capire che non è uno scherzo che è veramente lui al che Van Allen arriva lì e si trova davanti Quincy Jones che lì dice guarda vorremmo che tu suonassi la chitarra elettrica la solo la chitarra elettrica su questo brano di Michael Jackson appunto Beat It Van Allen non solamente suona la solo ed è che è un altro dei suoi grandi assoli iconici che insomma andatevelo a cercarlo trovate facilmente mette veramente del suo cambia qualcosa della struttura di come era pensato di come era pensato la parte della solo originale tant'è vero che il stesso Michael Jackson lo ringrazierà per aver per aver dato anche per aver messo anche come dire del suo e non essersi limitato a fare il session man andar lì suonare e andar via e anzi leggenda vuole che Van Allen ancora mortificato per aver mandato a quel paese Quincy Jones abbia suonato a titolo completamente gratuito allora ho detto prima che la chitarra elettrica di Beat It quindi non la parte della solo ma la normale chitarra elettrica nel resto del disco era suonata da Steve Luketer chitarrista dei Toto Van Allen aveva un'ammirazione sconfinata per i Toto e per Luketer tant'è vero che ci sono due episodi che ci fanno capire questa cosa il primo è stato il fatto che diceva che i Toto erano la miglior band del mondo come valore dei singoli musicisti cioè voglio dire magari c'era un'altra band che aveva il batterista più bravo magari un'altra che aveva il bassista più bravo ma nel complesso come dire come media di livello tecnico ed espressivo dei singoli musicisti della band Itoto per Van Allen era la migliore band del mondo invece per Luketer ha veramente un'ammirazione sconfinata tant'è vero che quando in un'intervista un giornalista gli chiederà ma cosa si prova a essere il miglior chitarrista del mondo lui rispose non lo so provate a chiederlo a Steve Luketer e qui arriviamo alla questione degli M&M's marroni questa è una cosa bellissima che io pensavo fosse una leggenda metropolitana e invece è storicamente accertato allora Ivan Allen soprattutto nella prima fase della loro carriera quindi diciamo degli anni da 78 all'84 avevano un'attività live mostruosa e andavano in giro con un impianto tecnico da paura considerate che normalmente una rock band normale non stiamo parlando di quelle che facevano i matrimoni e le feste di compleanno parliamo di una rock band famosa andava in giro con tre tir di attrezzatura tra palco luci amplificatori strumenti eccetera eccetera Ivan Allen andava in giro con 8 diconsì 8 camion di attrezzatura quindi quasi il triplo degli altri questa cosa comportava che i loro show erano veramente spettacolari poi loro ve lo ricordate David Lee Roth era insomma un esperto di arti marziali insomma e sul palco era veramente una tigre scatenata lo stesso Ivan Allen prendeva saltava si buttava insomma non era certo uno che saliva sul palco suonava e se ne andava insomma era uno che dava tantissimo i loro spettacoli quindi erano estremamente complessi dal punto di vista tecnico organizzativo allora cosa si inventarono la storia degli M&M's marroni ovvero sia ogni volta che davano il contratto a un nuovo promoter il promoter è quello che organizza il concerto nelle varie città lo dico per chi non lo sapesse gli veniva fornito un contratto gigantesco stile guida del telefono in questo contratto c'è una clausola che diceva che nel backstage dovevano esserci degli M&M's sapete le famose pastigliette le caramelle di cioccolato zucchero ecco dovevano esserci delle M&M's ma per nessuna ragione ci sarebbe dovuto essere un M&M's marrone questa cosa che per tanti anni è stata considerata così un coup de teatro una cosa un po' da dive un po' ragazzini viziati eccetera eccetera in realtà aveva una ragione ben ben specifica cosa facevano quando lo arrivavano in un nuovo venue in un nuovo location dove dove dovevano suonare la prima cosa che il manager verificava è se c'erano gli M&M's nei camerini e soprattutto se tutti quelli di color marrone erano stati tolti perché veniva fatto questa cosa non per un così per un capriccio di un gruppo di divi perché verificare che quella clausola fosse stata eseguita faceva capire a loro che l'organizzatore ne ha letto anche tutto il resto del contratto che era bello grosso perché sono molte volte soprattutto quando un promoter ha voglia di chiamare un gruppo che comunque è molto conosciuto che potrà tanto pubblico firma qualunque cosa sì sì va bene basta che accettiate basta che vignate no loro volevano che le condizioni tecniche quindi il voltaggio dell'impianto elettrico l'amplificazione la questione di sicurezza sono stati i primi a capire che comunque insomma un concetto del genere con decine di migliaia di persone insomma ha anche delle dosi di rischio per quanto riguarda la sicurezza pubblica per cui bisognava che tutte le caratteristiche richieste fossero soddisfatte tanto è vero che qualche concerto lo fecero saltare per questa ragione di modo che si spargesse la voce fra i promoter che loro non scherzavano e che quel contratto andava letto capito e soprattutto eseguito soddisfatto per cui concludendo cosa dire del povero Van Allen morto a 65 anni nel 2020 nell'ottobre del 2020 che ha avuto come spesso capita a chi ha successo un successo così grande e soprattutto il fatto di essere così osannato anche come a un genio di chiterrista eccetera eccetera cosa che era ha avuto enormi problemi di dipendenza in particolare da droghe ma soprattutto grossi problemi di dipendenza dall'alcol cosa che gli ha fatto attraversare naturalmente problemi contrattuali con le case psicografiche matrimoni falliti insomma e vabbè quello che purtroppo una qualunque dipendenza si porta via moltiplicata per il fatto che se sei una star internazionale una serie di problemi vengono sicuramente centuplicati alla fine ce l'ha portato via un tumore alla gola alla lingua in particolare contro il quale lui combatteva da tanti anni in parte si è riuscito ad arginarlo amputandogli una piccola parte della lingua cosa che però non gli creava problemi né nel parlare nel fare il suo lavoro poi però insomma alla lunga la mala bestia ha avuto ha avuto il sopravvento e ce l'ha portato via a 65 anni per cui riposo in pace di Van Allen tanti chitarristi devono a te il fatto di imbracciare oggi una chitarra e questa cosa non te la potremo mai togliere alla prossima grazie a tutti